. Barbara d'Urso attaccata da Fedez, la battuta velenosa sui social Fedez sbotta sui social, la replica a Barbara d'Urso. Barbara d'Urso, con il suo Pomeriggio 5, ogni giorno tratta argomenti legati alla cronaca e allattualità, ma dedica anche uno spazio tutto incentrato sul mondo dei personaggi dello spettacolo. Il tema del talk show, andato in onda ieri, riguardava i Vipcafoni. . Tra i servizi riguardanti il tema, Ken era un dedicato a Chiara Ferragni, famosa fashion blogger e compagna di Fedez. . Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete, Chiara lascerebbe gli escrementi del suo cagnolino nel cortile del palazzo, andando incontro a numerose molte. . L'argomento, seppur di non grande spessore, è stato discusso all'interno del salotto di Barbara d'Urso, mostrando anche i gesti non proprio raffinati degli altri Vip, non concentrandosi ovviamente soltanto sulla nota fashion blogger. . A Fedez, famoso rapper amato dai giovani, non è andato giù lo spazio dedicato alla sua compagna e ha pensato di rispondere alle accuse della bella presentatrice partenopea attraverso le stories di Instagram. . . In una breve clip, di circa 15 secondi, il cantante non ci è andato leggero sulla conduttrice del pomeriggio di Canale 5. . . Ha affermato il rapper, durante la registrazione del video. . All'interno della clip, si intravede Chiara Ferragni che non è intervenuta nella questione. . Barbara d'Urso e Fedez, è guerra sui social. . . Non è la prima volta che un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo replica alle affermazioni di Barbara d'Urso attraverso i social. . . Prima di Fedez, qualche anno fa ci ha pensato Belen Rodriguez, la famosa modella argentina. . 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 La conduttrice del pomeriggio di Mediaset non ha ancora risposto alla frecciatina velenosa del rapper e molto probabilmente non lo farà. Barbara è da tempo abituata ai continui attacchi sul web e ha deciso di ignorarli, per dare spazio a cose più importanti. . Anche Chiara Ferragni, la diretta interessata alla questione, ha preferito non dire nulla sulla vicenda trattata ieri negli studi di Cologno. Intanto, il popolo del web sembra essersi schierato dalla parte del famoso giudice di X Factor. . .